Abbiamo il capo tasto nello stesso tasto, sì, eh? Sì, giusto, eh? Va bene, dateci il beneficio del dubbio. La prima volta che la facciamo dal vivo ve la dedichiamo. No, non ve la dedichiamo perché parlare. Credit to your mind! La prima volta che la facciamo dal vivo. 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 La prima volta che la facciamo dal vivo.